Mi auguro che la giornata della memoria ci aiuti anche a capire quanto sia importante l'Europa, quanto vada difesa, ma quanto vada anche fortemente migliorata, deve diventare l'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli, l'Europa di tutto quello che ci tiene insieme, cercando di mettere da parte quello che ci divide. Cari ragazzi, custodite con cura la memoria e usatela come un faro per costruire un futuro migliore, perché come ci ricorda Primo Levi, tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. Perché questo? Perché ho fatto un discorso per i giovani, perché ormai purtroppo gli anni passano e i testimoni mancano sempre di più. Però è rivolto ai giovani perché, ripeto, non dobbiamo dimenticare in un momento poi che il mondo è tutto pieno di fuochi accesi, di guerre. Viene da chiedersi ogni anno quando si celebra la giornata della memoria e lo stesso discorso varrà anche fra due settimane in occasione del giorno del ricordo, qual è a più di 15 anni dall'istituzione il senso di determinate iniziative, e quanti, fra i non molti giovani presenti stamani in risiera, avranno fatto proprie le parole del sindaco di piazza. Di anno in anno la sfilata di labari, le deposizioni di corone, gli stessi discorsi delle autorità vengono seguiti da un numero sempre minore di persone e oggi non è stata colpa del freddo. Forse è colpa di un copione che si ripete sempre uguale e magari non potrebbe essere diversamente. Il concetto della memoria, della necessità e dell'obbligo civile di non dimenticare hanno eccheggiato oggi fra le mura del campo di prigionia e esterminio cittadino, ma quelle mura, nel corso degli anni, hanno raccolto parole ben più drammatiche, urla, lacrime, che non possono essere restituite. In fondo il problema è questo, l'enormità di quanto accaduto, già che Risiera diventa simbolo di abomini massimi, Auschwitz-Dachau, e l'inadeguatezza dei mezzi attraverso i quali si è in grado ora di raccontarlo. Certo, se una sola persona oggi avrà riflettuto di più e meglio su una tragedia che dovrebbe essere celebrata ogni giorno dell'anno, sarà una piccola conquista. In ogni caso, mai come in queste circostanze, il dramma che raccontano le celle della Risiera risulta immensamente distante da una cerimonia pur così vicina.